Bisogna chiudere questo aeroporto, per forza, ma no, ma scusate, a Bellinzona abbiamo dato 100 milioni per mantenere le officine e oltretutto regalando anche i terreni alle FFS, adesso noi stiamo parlando per 200 persone, per 200 lavoratori abbiamo deciso di dare 100 milioni alle FFS, adesso per un aeroporto che ha 200 posti di lavoro diretti, nonché un migliaio indiretti, non siamo disposti a ricapitalizzare, si parla del costo di qualche rotonda, non stiamo parlando di 100 milioni, ma non è meglio fare un piano sociale per queste persone, ma comunque in futuro, se no continuiamo a ricapitalizzare, ma non è questo che è l'aeroporto è diretto dall'unico merlo che non sa volare, i nostri dirigenti della LASA non sono capaci di gestire l'aeroporto, non è che non sa volare, è stato pilota, è stato direttore dell'aeroporto, adesso però non vola più, il problema non funzionerà mai, l'aeroporto non va chiuso, parliamoci chiaro, senza aviazione pubblica, senza voli di linea non possiamo avere più l'aviazione generale, quindi stiamo decidendo se tenere l'aeroporto o chiudere l'aeroporto. Io sarei d'accordo di pagare l'aeroporto, ma se ci fosse un futuro, adesso mettiamo altre 8 milioni per dare un po' di accannamento terapeutico e poi alla fine degli 8 milioni ce ne saranno altri 8, perché il aeroporto non siamo noi che lo chiudono, l'hanno chiuso le compagnie che non vogliono più terrare a Lugano, ma c'è solo la Swiss che non vuole farlo, e le altre, io quando vado a Agno non vedo arrivare l'American Airlines, la Malpensa, io da Beninzona alla Malpensa, da Beninzona a Agno, c'è la differenza di Maggioretta, non di più, capisci? Maggioretta, ma sei già andato a Malpensa? Allora, se tu parti da Malpensa, devi arrivare due ore prima, ci metti per andare là. E' vero, in 15 minuti per stare sull'aeroporto. Ma c'è la richiesta, la Lugano c'è come, ci sono un sacco di imprenditori, un sacco di persone che lavorano nelle banche, che hanno bisogno di spostarsi. Con il manuale c'è in cella, i due PPD, un po' di liberali, un po' di socialisti, magari uno della Lega, dentro del Consiglio di Amministrazione, mettetele di gente capace. Ho capito che siamo raffinati perché non è stato messo dentro l'Udc, però adesso non si fa fallire un aeroporto perché avessero messo dentro un vostro rappresentante. No, 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 noi il nostro rappresentante non lo vogliamo niente. Noi vorremmo mettere dentro qualcuno che è capace di volare, capisci? Oltre alle persone che rimangono a casa, voglio poi vedere se qualcuno ha capace. Nessuno può fare in maniera in casa a nessuno, ma non si può tenere 200 milioni di indotti. Guarda, con quegli 8 milioni di indotti si non lo paga fino a 65 anni. Io ritengo, l'aeroporto, chiaramente adesso con la struttura di LASA che ha dei servizi che vanno a questa aviazione generale, se LASA fallisce questi servizi al momento non ci saranno. Però questo aeroporto può stare in piedi con l'aviazione generale. Io dubito che ci sarà mai una compagnia che riesce a fare utili e quindi offre dei voli di lì. Quanti soldi del cittadino è costato fino adesso all'aeroporto? Circa 50 milioni. Pensate che i cinesi sono contenti di tirar fuori le loro imposte per pagare un cadavere. E' questo. Insomma, sono 50 milioni. Sono soldi davanti. E' anche...